sia al MIT che all'autorità portuale che in comune, io intendo il mio ruolo come quello di acceleratore, il ministero come luogo di incontro e di ascolto dei sindaci, poi affascinante che qua progetti quello che sarà, ieri ero con il sindaco di Cinisello Marsamo, sopra l'autostraga penso più praticata d'Europa, la quattro è inaugurare con gli studenti di insegnarci una piazza e un parco giochi a cavallo dell'autostrada, quindi anche lì un elemento che unisce, così come spesso un'autostrada divide comunità, la comunità è un porto è separato dalla città e quindi ieri ero con il sindaco di Cinisello, poi con il sindaco di Lecco dove abbiamo, grazie alla vostra ordinaria, un giorno e notte piana, si è liberato una galleria, una strada dopo una frana nell'arco di meno di un mese, stamattina qua a Città e che recupererà sicuramente centralità, l'intervento che con orgoglio il Ministero ha deciso di finanziare riguarda l'agroalimentare, quindi un pezzo di Ministero dell'Agricoltura perché avere un punto di smistamento dei prodotti agricoli è penso al nostro made in l'intervento, non penso alla farina di Grillo, di Locusti, di Salvatore, la tavola preferisco altro, però vanno trasportate le nostre eccellenze, una parte di Ministero dell'Ambiente, perché quando si parla di logistica, di imballaggi ecosostenibili, di merci che viaggiano su terro o su mare invece che su strada, una parte di nostro infrastrutture, perché qua c'è la ferrovia, c'è l'aeroporto non lontano, c'è un'arteria stradale che collega direttamente all'autostrada al porto devo dire che a Civitavecchia avete una comunità di amministratori, sia di maggioranza che di opposizione che penso abbiano dato dimostrazione del fatto che insieme si vince e si fanno grandi progetti io intendo il mio Ministero come la politica, ovviamente abbiamo idee diverse su tanti temi, ma quando c'è al centro lo sviluppo della città il bene della comunità, sono contento che il Comune di Civitavecchia su tutti i suoi versanti abbia dato eccellente prova di unità quindi vengo io a ringraziare voi perché non sempre è facile trovare questa unità di utenza, adesso tocca a voi adesso potrei tornare sì con il nuovo codice degli appalti che il Parlamento dovrà approvare entro la fine di marzo con tempi più cederi, ieri ho fatto un incontro con il Presidente dell'ANA che è dell'autorità di evoluzione è chiaro che gli appalti devono continuare a garantire trasparenza, i malavitosi devono stare lontani, però io continuo a essere convinto e penso che gli amministratori locali, come l'ho fatto io, lo siano altrettanto, che più l'appalto è veloce meno burocrazia hai, meno uffici devi girare, più è difficile per il corrotto trovare il corruttore cioè se l'appalto dura tanto, i lavori fai, se invece devi girare un ufficio, devi girare 22 uffici quindi è chiaro che è sempre sbagliato, quindi però ha più possibilità quello di malaffare se l'appalto dura una vita quindi avere un codice degli appalti nuovi, avere un codice della strada, qua si parla anche di strade più moderne smart road, 5G, telecamere, video sorveglianze, però poi occorre anche la testa quindi noi a generale faremo un altro secondo tavolo, il ministro della scuola per l'educazione stradale vera che non finita un'ora all'anno e il ministro degli interni perché oltre che ha l'educazione e la prevenzione deve essere prevista anche la sanzione perché è inaccettabile il numero di morti e feriti sulle strade italiane dovute a droga, dovute ad alcol, dovute a distrazione e quindi conto che anche su questo si dia un segnale di cambiamento oggi, così come ieri, a mio piacendo, il prezzo della benzina del gasolio sta scendendo perché se vandi la gente a controllare lentamente furbetti e speculatori hanno una vita più difficile e quindi miracoli non siamo in grado di farli, però questi 35 milioni, a ragione del Presidente dell'Università Sociale penso che possano essere un grande volano che porti qualche altro fondo, qualche altro investitore esterno dire a Cività Vecchia si può, se lo dico non lo fanno, quindi conto che questi denari pubblici siano solo l'inizio di un investimento di denari privati che possano portare Cività Vecchia a godere come comunità, come studenti, come pensionati, come insegnanti, come commercianti dei numeri eccezionanti, perché sai, io cittadino, residente a Cività Vecchia, con i miei problemi e le mie tasse, si è bello sapere che sono la seconda portualità turistica d'Europa però se non ricade sul mio territorio, io penso che reinventare, recuperare queste aree in messe da tempo siano una grande opportunità per Cività Vecchia, vedere tanta gente un mercoledì mattina vuol dire che siamo sulla strada giusta, quindi inverto l'ordine dei fattori, non dovete essere voi a ringraziare un Ministro che fa semplicemente il suo lavoro, sono io che ringrazio una comunità di Cività Vecchia perché ha portato a Ministero un progetto che stra-meritava di essere finanziato. Quindi siamo stati venuti a essere bravi, ferenti e tanti. E auguro che il modello Cività Vecchia possa essere esportato anche in altre situazioni. È vero che quando ho fatto la riunione con il Presidente delle autorità portuali sono stato soddisfatto da un certo punto di vista e mi sono stato scazzato da un altro punto di vista perché non puoi avere quasi un miliardo di euro di opere pubbliche progettate, finanziate, ferme perché manca il documento, perché manca l'autorizzazione, perché manca la via. La cosa che mi ha colpito, io vedo qua tanto verde, tanta sostenibilità, tanta innovazione, tanto green e però mi domando con quale razio qualche burocrata debba chiedere che in un porto industriale che ha banchine di cemento e petrogliere, tu per procedere a quei lavori debba piantare centinaia di alberi sul cemento, ma gli alberi mettiamoli in altri contesti. Quindi conto che riusciremo a riportare un po' di buon senso da tutti i punti di vista. Conto di tornare a Cività Vecchia per la posa della prima pietra e visto che mi ero proposto meno di tre mesi fa perché siamo al governo da neanche tre mesi, già sembrano passati anni e anni però siamo qua da neanche tre mesi, però mi sembra che il segnale di cambiamento, di scendenza, di accelerazione, di corsa, di modernizzazione sia stato dato. Conto di tornare per la posa della prima pietra perché la regione Lazio è straordinaria ma non è solo Roma. Roma è tanta roba, Roma è la capitale, Roma è la sede di ministeri, di autoriti, di ambasciate e di tutto il resto della regione Lazio, così come l'Italia, non sono solo Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, è l'Italia dei comuni, dei municipi, dei dialetti, delle bellezze, delle esperienze. Quindi ringrazio anche le divise che rappresentano donne, uomini e le forze dell'ordine per le interazioni di forza sicurezza. L'indico all'interno della sicurezza non sono solo poliziotti o carabinieri. Se porti una scuola, se porti un negozio, se porti una luce, se recuperi migliaia di metri quadrati di aree dismesse che possono potenzialmente essere oggetto di occupazione o di divacco e ci porti giovani, ci porti entusiasmo, ci porti business, lavoro e rendenza, fai una grande operazione di messa in sicurezza del territorio. Sono ben contento di essere uscito dal Ministero questa mattina e ci ritorno assolutamente rinfrancato adesso quando torno a Roma. Grazie, buon lavoro e viva Cività Vecchia. Grazie. 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 Grazie.